Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Tendo a dire subito che questo video Questa live in questione che stiamo per reagire di un po' di youtube Io già l'ho vista Io almeno l'ammetto Poi tendo a far vedere le chat con un po' di youtube Oh beh, mi ha fatto vedere che i miei sociali basta e non li avevo mai visti Hai detto il cazzo, bimbo della zia, i 9 anni, basta Bestemmia Io gli iscrivo, non ti piace questo video Ti dico di più, i tuoi fattioni non sono zisti, non i tuoi domani fanno schifo, queste cose Lui Fa una live apposita Per insultare Cioè non per insultare, per reagire ai miei video Riderci su E negare l'evidenza Che poi se ha detto tipo I miei fattolini Ma che? E poi vede il video dove i fattolini mi insultano Un mio iscritto Mario Gamer Intanto Mario Gamer è un iscritto, non è un mio amico Un mio iscritto, anzi non lo sapevo Un mio iscritto Ha ricaricato lì una parte del mio video Dove i suoi fattolini mi limosinavano armi E lui ha detto Ah sì, l'amichetto E quindi Prima dicevano che non insultavano Che non le limosinavano armi E poi sì Ti ringrazio ma con me per avervi clicato il video Comunque Vedremo E cerco tipo chiocciola Cosa fa il suo? Ombra mi trova in un video Ombra YouTube ormai è guerra Ragazzi ci vediamo questo video Ombra YouTube Ormai è guerra Vai Dislike subito Neanche me l'ho visto In questo video Partiremo un po' della questione con Ombra Però prima ti volevo chiedere Premetto che non so chi sia No No Non so chi sono No No Vero no No Ombra No 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 Va bene Perché non mi dimentico Cioè Che si vedeva Ammo Ok Fai ecco Poi saccare Che attacca la mia cuffia Bruce che fa ecco Vabbè 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 vi taglio Ok Vabbè vi taglio tutte le parti che non sono Che non servono Questo lo tengo a far vedere Se si vedevi un po' Quello mi è successo Si sentite i rumori Allora Vabbè C'ho avuto a che fare Tutto Perché fai i rumori Che stupido Beh quello si però Vabbè vi salto sta parte di Bruce che c'ho a lei Ha detto qualcosa ma parlava con un suo amico Ha detto che io l'avevo in vita Adesso signora entro e ti invito Con un bel Ho deciso avuta a che fare Sentite bene E diciamo che Cioè prendete inizio da Mi ha anche usato 10 euro Perché lui Io avevo acquistato Gliccio La duplicazione Mi l'ho dato Ma non funzionava Da lui Aspetta che ha detto Lui Lui Finta di nulla Vero ombra Penso che stai guardando questo video Vero Finta di nulla No Non ho mai acquistato Sul suo sito Il tuo sito Di merda Dall'altro Che poi i tuoi fattolini Vengono Tu sei una vergogna Hai acquistato Dal k-shop Devi morire Sei una vergogna Fai schifo Dovevi acquistare Dall'ombra shop Non dal k-shop Ma seriamente Ma in che anno vivi Vabbè Dai Teniamo 10 euro Perché lui Io avevo acquistato Gliccio Le obbligazioni da lui E poi i sottotitoli Gli ha messi Erano tutti sbagliati Non è colpa sua Vabbè O i youtuber Gli ha messi Tutti sbagliati Lui Gli ha messi 10 euro Perché lui Ha avuto La anche Le cuffie Con l'ombrello Gesù Aveva a che fare Cosete Vedete i sottotitoli Sono sbagliati 10 euro Mi ha anche Giù di 10 euro Perché lui Neanche Neanche bisogno Di 10 Di euro Perché lui Ha detto Mi ha anche Truffato 10 euro Io l'avevo acquistato Nell'ordine Da lui 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 Vuoi negare Ombra Il Negare Negano 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 L'area Abbiamo anche Mediato Abbiamo anche Ridicato Come questo Fatto Poi è una cosa lieve Poi è finita là La cosa è che ora Che poi la cosa è che Ombra in qualsiasi live Sta zitto Così a caso I fattolini Come no 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 Io ci tengo troppo Perché sti cose si devono far vedere A quelli che sono in partita A quelli che non buildano Sbagliati 10 tac di vicini 10 a Vincenzo 36 Scusa noi dovremmo credere Che tu hai fatto pace con Ombra Ma infatti Ma io ci ho fatto pace con Ombra E quelli erano i fattolini Che le motinavano armi C'erano tre Che poi Mi l'ha fatto in Italia Quelli da gamer Che le motinavano armi Uno Aveva anche dei problemi Tra l'altro Sì Quello che parlava Tra l'altro Il cane Ti stai zitto cane di brucio Intanto volevo vedere Infatti ma Guarda un po' Macro Gamer Mi ha anche insultato Diciamo Hai otto anni Vuoi parlare di questioni Fai tagli nei video Per favore Non è un insulto Però non è neanche un complimento Quindi questa è già una prova Che poi Puoi mutarti almeno Quando parla Quando avvaia Ok Eh non ce lo sa fare niente Vabbè Intanto volevo dire Lui ti ha amici a cazzo Hanno iniziato loro Questa guerra Che poi tendo a far vedere Che in realtà Non sono l'unico Che sto facendo questa cosa Non crederà Ma che c'è Ma che c'è Che poi No Le cuffie No Vabbè Dov'è Tutti che insultano loro Nell'altro video Guardate Però prima ti volevo chiedere Bruzzo Che sta con noi Guardate Anche Favarigno Ce l'ha Con Con Ombra Vai raga La guerra Allora Io sinceramente Non so Che partire Perché Allora Una Ragazzi Vedete che mi bloccavo C'erano così tante cose da dire Che non sapevo La potenzione Se ne va Poi vede il mio video E poi va da uno Un video di Macro Gamer Che ha ripubblicato Un pezzetto del mio video Da ci faccio il video contro Ombra di tumbo Fattorino Ombra shop Elemosina Materiali e armi Vai Questo Lo voglio vedere 21 Si mi dai Ti do il 3 Ami 136 Si mi dai Elemosina Materiali e armi Vai Questo Lo voglio vedere 21 Quest'ultimo Che ha parlato È un obbligatore Di ombra Mandato da lui stesso Vedete Che non sono L'unico Che lo dico Ragazzi lo so Che non avete capito Un cazzo Di quello Che dice Ma Problemi Anche Ombra Ha problemi Però Alla fine A parte Di scherzi Leon Questo qua Che parla Li ha veramente Ombra perché è stupido Ma lui Li ha veramente Quindi Se vedete Che parla così È per quello Vedete Dite Che sono amico Con lui Ma non mi pare Proprio Non ci credo Parlo con ombra youtube Attenzione E poi Il video Finisce Io penso Che potremmo Bellissimo Finire Un bel video Di più in live bro Vabbè Sta live No Ombra youtube Casale 96 Un attimo Un attimo Per finire il video Con questa fame Con questa fame Quest'ultimo Che ha parlato È un duplicatore Di ombra Mandato Da noi Stesso Ragazzi Mettete un like A questo video Se siete contro Ombra youtube Ombra youtube Tu metti dislike Perché tanto Li metti lo stesso E nulla Iscrivetevi al canale Tu ombra youtube Banna al canale Come dicevano I tuoi fattorini Attivate la campanellina Tu ombra youtube Invece Vattene a fanculo E nulla dai Balla Laga Grazie 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 Grazie